Buonasera, bentrovati a RTTR Volley. Buonasera a tutti, lasciatemi fare subito un saluto a Sara Ravanelli, di cui da questa sera cercherò di prendere il posto, non riuscirò mai a sostituirla, però insomma le mando un abbraccio e un in bocca al lupo per la sua nuova avventura lavorativa. RTTR Volley non cambia, quindi continuate a seguirci. Ogni settimana avremo due ospiti, tendenzialmente dell'ITAS maschile e femminile. Questa sera abbiamo Kamile Richlichi, benvenuto, o meglio Richlitsky, come si direbbe in polacco, benvenuto. E poi arriverà Francesca Michieletto, ci daremo il cambio più o meno a metà trasmissione. E poi oggi abbiamo anche riempito la nostra tribunetta con le ragazze del Torre Franca di Serie C, benvenute ragazze. Facciamo un giro di nomi anche qui. Intanto vi accompagna Bruno Penner, dirigente. Benvenuto Bruno, diciamo un po' i nomi. Giorgia, Francesca, Lorenzo, Francesca e Giorgia. Vincitrici della Coppa Trentino Alto Adige, quindi congratulazioni. Poi parleremo un po' anche di voi. Inizierei subito ricordandovi il numero di telefono per mandarci le vostre domande o i commenti da casa. Siate buoni, almeno per oggi, che è il 339-466-0076, messaggi Whatsapp. E poi entriamo subito nel vivo, cominciando con un servizio su Kamile. Kamile Richlichi nasce il 1 novembre 1996 a Etelbruck, cittadina di meno di 8.000 abitanti del distretto di Dierkic in Lussemburgo da una coppia di ex pallavolisti polacchi emigrati nel Gran Ducato a fine carriera. Jacek Riklichi, medaglia d'argento all'europeo 1983, ed Elisabieta Richter, campionessa polacca nella stessa stagione, entrambi atleti della nazionale. Il piccolo Kamil nasce già con due passaporti, polacco e lussemburghese, a cui l'8 luglio 2022 si aggiungerà la cittadinanza italiana su richiesta del CONI per meriti sportivi. Dall'età di otto anni, lui e i suoi riccioli crescono tra le fila dello Strassen, che trascina la vittoria di tre campionati lussemburghesi e quattro coppe nazionali. Attenzionato dai diversi club europei, finita la scuola, 19 anni e con l'altezza di 2,4 metri, firma il suo primo contratto professionale con la Maseik e si trasferisce in Belgio, agli ordini del coach argentino Daniel Castellani. In un biennio nella massima serie conquista Supercoppa e campionato ed entra nella nazionale maggiore lussemburghese, dopodiché a 22 anni lascia il carrello del supermercato per un aereo e atterra a caccia di sogni nella Superlega italiana a Ravenna, dichiarando di aver sempre considerato il nostro campionato come quello più forte e coinvolgente. È qui che esplode il suo talento, chiude la stagione Ravennate con quasi 500 punti in 25 partite, concorrendo alla non scontata salvezza della squadra e finisce nel mirino della Lube, dove con i ricci legati in una coda alta si trasferisce per due campionati, aggiudicandosi lo scudetto 2019-2020, due Coppe Italia e il campionato mondiale per club 2019. Un sogno, dichiara, fino a ieri questi campioni erano i miei idoli e adesso sono parte di questa storia. Atleta poderoso, fortissimo in attacco e da muro, temibile in battuta e con i suoi 25 anni da compiere e ha ancora importanti margini di crescita. Nell'annata 2021-22 viene ingaggiato dalla Sir Safety Perugia di coach Gerbic. Sono molto contento di tornare a giocare con Roberto, dichiara, e sono contento, aggiunge sorridendo, che non dovrò più avere il pensiero di provare a murare Leon, che adesso sarà nella mia stessa metà campo. Nello stesso anno arriva a Perugia anche Simone Giannelli e la Sir vince la Coppa Italia, una supercoppa italiana e il campionato mondiale per club. Dopo un biennio con gli Umbri, caratterizzato nell'estate 2022 anche dal taglio dei caratteristici ricci, da poco naturalizzato italiano, nel luglio 2023 sbarca in Trentino, un opposto di ruolo chiamato a colmare il vuoto lasciato dall'ITAS da Mattei Kasinski. Non ci penso neanche a sostituire un mostro sacro come lui, dichiara, rivelando un aneddoto. È dal 2004, da quando avevo 8 anni, che in casa ho una maglia numero 11 di Trento. Me la portò mio fratello Damian, che quell'anno giocò al Palatrento con lo Strassen, per una partita di qualificazione di Top Teams Cup. La sconfitta fu nettissima, ma lui tornò dall'Italia con questo regalo. Forse una sorta di premonizione, sta di fatto che questo è il motivo per cui ho scelto di indossare l'11 a Trento. Per me si chiude un cerchio che inconsapevolmente avevo aperto quando era ancora bambino e già sognavo di diventare un campione. Per la verità, sognavo di diventare un giocatore di pallavolo, molto più modestamente. Poi ho sintetizzato, sognavo di diventare un campione. Una vita da predestinato nella pallavolo. Mamma e papà giocavano, tu hai sempre fatto pallavolo o hai provato altri sport? Ho provato anche karate, ho fatto un anno di karate, però non era il mio destino. Diciamo, da piccolo volevo sempre giocare pallavolo. Ero ancora un po' troppo piccolo, secondo i miei genitori, per iniziare già pallavolo. Però con tempo mi hanno lasciato a farlo. Infatti hai iniziato a dieci anni. A otto. A otto, sì. E subito come ruolo, tu almeno magari a otto anni è un po' presto, però il tuo primo ruolo qual è stato? Schiacciatore, ho giocato come schiacciatore, sì, all'inizio. Però ho fatto anche un anno come libero, che sono molto orgoglioso che ho fatto una buona stagione. Eh beh, si vede, alla fine ti è servito. A diciannove anni ti sei trasferito per la prima volta. Com'è andata? E con che emozioni sei andato via da casa? Sì, ma ero molto contento e aperto per questa avventura, perché aspettavo già un paio di anni per fare il passo, per iniziare a giocare professionalmente. Ho deciso che Maseic in Belgio sarebbe la società perfetta per fare i primi passi per presentarsi sul campo. E hai vinto già subito, c'era vista la foto con la scarpa d'oro che ho preso dalla tua pagina Instagram, che tra l'altro non aggiorni più, giusto? Sì, sì, non sono più social. Non sei molto social. Hai vinto subito il giocatore migliore del campionato? Sì, era un bel gesto del pubblico e della società per darmi questo bel trofeo, che sono stato molto orgoglioso a prenderlo. E poi è arrivata la chiamata dall'Italia. Era un obiettivo? Sì, sì. Sognavo di giocare in Italia, però per essere onesto, non pensavo mai che sarebbe successo così veloce e per così tanto tempo. In questi anni, l'abbiamo messa lì anche un po' così per alleggerire, ti sei anche tagliato i capelli. Tu hai detto in un'intervista dovevo alleggerirmi, a parte un paio di chili di capelli, ma dovevo alleggerirmi anche mentalmente, perché l'ultimo anno non l'avevi chiuso benissimo, sbaglio. Ci sono sicuramente stati alti e bassi, diciamo, quindi mi serviva forse un taglio più fresco, diciamo. Ma sentivi la pressione? Dopo anni in cui andava tutto bene, di leggerezza, hai avuto un momento di crisi o no, non l'hai mai avuto? Credo che durante la carriera, durante il sport, ci sono sempre, come dicevo, alti e bassi momenti più belli e quelli meno belli, quando forse si perde. Ma anche io ovviamente ho avuto questi momenti, però poi la forza è di trovare e di crescere in questi momenti lì. E poi, sì, ma per essere onesto, poi ho anche tagliato i capelli perché per cambiare un po' il look e basta. Sì, non è stato difficile neanche quello? No, perché già per un po' di tempo, io lascio, prima di fare una decisione, lascio sempre una idea crescere in mia testa e quella idea già da un paio di mesi era lì. e quindi io sapevo che devo farlo. E sei uno riflessivo, che non fa le cose di impulso. Sì, credo che sono abbastanza razionale, sì, sì, sì. Credo che dall'inizio cercavo sempre di fare, di prendere le decisioni e i passi giusti. A Perugia, con Coach Gerbic e Giannelli, che insomma qui è un'istituzione, com'è andata? È una bella esperienza, una bella avventura. Sicuramente abbiamo avuto tanti obiettivi, non tutti li abbiamo raggiunti, però sicuramente è una memoria che per sempre sarà con me, una bella, tanti belli momenti che abbiamo vissuto insieme. Di Giannelli come palleggiatore, rimaniamo nell'ambito della pallavolo, cosa pensi? Ovviamente si deve solo guardare, credo, i trofei, i titoli, le sue presentazioni, si capisce già che è un gran, gran giocatore. E di Mr. Gerbic, che anche lui è stato qui? Sì, sì, ma avevo solo la fortuna di, cioè, avevo solo l'opportunità di lavorare un anno insieme con lui. Ah sì, perché poi è arrivato Anastasi. Sì, sì, poi hanno cambiato l'allenatore, quindi servirebbe un po' più tempo forse per conoscere lui bene bene. Un altro giocatore serio, Giannelli, che si allena molto metodico. Ogni tanto, no? Ci sono giocatori che, appunto, sono molto seri, bravi, sicuramente arrivano al top, però delle volte anche il genio, insomma, il matto e squadra, secondo te serve o rischia poi di rovinare lo spogliatoio? Anche voi siete una squadra molto seria, no? Quest'anno. Però, quando è arrivato al primo appuntamento difficile, forse avere un matto in campo sarebbe stato utile. No, ascolta, sicuramente nel nostro squadra c'è uno o due matti, ci sono sicuro. Questo non ci sono dubbi. Poi forse un po' più di esperienza che mancava, direi. Sì. Adesso l'avete fatta. Sì, no, come dicevo, ci sono alti e bassi, non ci siamo presentati così che abbiamo voluto, non è andata, diciamo, benissimo, abbiamo voluto di più, non solo noi, però, è così, si deve, più importante, imparare anche in questi momenti lì. Poi ne parliamo della partita, volevo chiedere alle ragazze se hanno una domanda da fare. A Camille, naturalmente. Vai, chi è la più coraggiosa? E volevamo chiederti come ti sei trovato, cioè come ti hanno accolto come squadra, come società, come in generale. Sì, sì, no, è una società organizzata molto, molto bene e d'altra parte la squadra è molto giovane. Ci sono i ragazzi che sono molto simpatici, molto aperti, quindi, questo anno io ero il nuovo elemento nella squadra e non ci sono stati tanti nuovi elementi, quindi... Quindi tutti gli scherzi li hanno fatti a te? Sì, sì, un po', anche giusto, e quindi era molto facile a integrarci. Ti sei inserito bene. Andiamo a vedere il servizio sull'ultima partita, così poi commentiamo anche quella, poi torniamo, ci sono già tante domande anche da casa, vediamo il servizio sull'ultimo match. 79 minuti, tanti ne sono bastati a Lita, sa schiantare una Monza messa subito all'angolo davanti al suo pubblico a una settimana dalla beffa delle Final Four di Coppa Italia. Nell'anticipo del diciassettesimo turno di Superlega crede in banca, Michele e i tuoi compagni si sono presi la rivincita senza fare prigionieri. 25-12 il risultato del primo set col 74% in attacco, 4 ace e 3 muri per Micheletto, la nona volta in questa stagione MVP. Stesso starting six di sette giorni prima per le due formazioni, per Trento ci sono Sbertoli al falleggio, Riccivichi opposto, la via Micheletto schiacciatori, Podrasca, Nineco Zamernica al centro, Laurenzano libero. Il sestetto prende subito il largo 5-2 poi 7-3 grazie a un Micheletto subito efficace a rete, poi a Riccilichi a picchiare forte dai 9 metri agevolando la fuga Trentina 17-9 e nel finale Litas di Laga con Sbertoli al servizio, autore anche dell'Ace che chiude il primo set 25-12. Nel secondo parziale Monza prova a reagire migliorando la ricezione ma l'equilibrio dura solo finché sul sei pari la via non va al servizio. Cosamernica muro ci mette del suo e Trento aumenta via via al distacco 9-6 15-9 20-13 25-17 il finale con un micidiale turno in battuta di un Micheletto in versione Monster su tutti i fronti 21 palloni attaccati nel match 14 messi a terra l'80% in ricezione il 50% di perfette ci si potrebbe aspettare un calo fisiologico nel terzo set e invece i ragazzi di soli non concedono nulla lo strappo arriva di nuovo sul 6-6 con Micheletto Richlichi è devastante a rete ben spalleggiato dalla via e i ragazzi di soli scappano via sul 16-9 e che li ha già speso tutti i time out a sua disposizione senza trovare soluzioni neanche dalla panchina è ancora 25-17 e 3-0 con un Micheletto inarrestabile una prova di forza impressionante per Trento il meglio che si potesse fare per scacciare i fantasmi e la delusione dopo la sconfitta nel primo appuntamento stagionale da dentro o fuori la ciliegina alla giornata la messa Piacenza che battendo Perugia 3-1 nel big match di giornata ha confermato i 6 punti di distacco fra Trentini e Umbri con 5 gare da giocare massimo vantaggio di stagione ottava vittoria consecutiva in campionato per l'Itas che ha conquistato 24 punti filati nella prossima giornata Trento sarà Catania contro il fanalino di Coda Farm Italia Perugia avrà un incontro sulla carta più complicato in casa con Verona sesta certo i playoff saranno un'altra cosa sarà lì che l'Itas dovrà davvero dimostrare d'aver appreso la lezione confermandosi anche in una gara da dentro o fuori oltre a chiudere una grande maratona il regular season sarà il tempo a dare le risposte ma la prova di forza con Monza lascia ben sperare eccoci qua allora un 3 a 0 79 minuti cosa vi siete detti prima della partita è che la strada la nostra strada è ancora lunghissima ci sono ancora tante tante curve però abbiamo ancora tanti obiettivi davanti di noi altre opportunità per per vincere o per per arrivare al top quindi puntiamo puntiamo su questo vediamo un po' la classifica chiedo ad Angelo e il regia se ci fa vedere la classifica della serie a 1 maschile ovviamente dove c'è Alitas Trentino in testa questi sono i risultati vabbè dell'ultima giornata vediamo anche questi già che ci sono Piacenza Perugia 3 a 1 di questo risultato cosa dici? un po' sorpreso ma si sa che Piacenza sa giocare al palavolo questo anno forse non ancora tante volte sono riusciti a giocare a livello più alto però questa partita hanno dimostrato che comunque sono forti potrebbe essere pericolosa il playoff Perugia torna indietro Angelo grazie rifami vedere i risultati eccola qua Monza Alitas l'abbiamo detto è 0 a 3 Civitanova Modena 3 a 0 anche questo un po' sorprendente la Lube quest'anno non sta andando benissimo si sembra che ci sono non riescono a trovare un buon gioco insieme nel campo a Modena si è vero neanche Modena per la verità non sta facendo una grande stagione tutte e due squadre hanno i suoi problemi però piano piano quando arriverà playoff mi sono sicuro che tutte e due squadre saranno comunque molto pericolose inizia un altro campionato Taranto Cisterna 1 a 3 Verona Padova 3 a 0 Milano Catania 3 a 0 in questo caso parliamo in positivo di Milano che sta facendo una bella stagione si si stanno crescendo e andiamo adesso a vedere la classifica Itas Trentino 46 Perugia 40 più 6 bello vedersi lì insomma avete fatto 8 vittorie da 3 a 0 consecutive diciamo che ormai la strada è spianata state già pensando alla seconda fase no credo che comunque pensiamo giorno dopo giorno partita dopo partita perché come abbiamo anche visto durante la Coppa che tutto si può girare in un attimo quindi si deve essere sempre pronto a rispondere prossimo turno così commentiamo anche quello andiamo a vedere la settima giornata di ritorno Catania Itas Trentino Catania è ultima con 5 punti però insomma è una trasferta lunga quando partite come cosa ti aspetti da questa gara? sì anche un nuovo palazzetto sicuramente per tutti noi e poi Catania deve lottare deve provare a cercare a prendere i punti se vogliono rimanere nella A1 quindi comunque mi aspetto una partita tosta non regaleranno niente sì no sicuramente no Taranto Civitanova Perugia Verona gara anche questa da seguire come Piacenza Monza Padova Milano Modena Cisterna quest'anno chi ti è piaciuto di più delle altre squadre? sicuramente Monza ha fatto tante belle partite quest'anno mi sembra non lo dico solo perché hanno vinto contro di noi la Coppa però anche già dall'inizio della stagione hanno fatto belle partite soprattutto contro questi top top 4 fanno un bel bel palovolo vediamo anche qualche domanda da casa che ce ne stanno arrivando tante addirittura da prima che iniziasse la trasmissione questo credo sia colpa di Franz Segala che mette sempre gli avvisi che giochiamo allora da nonno Herman a Camille dice fino ad oggi tu 7 MVP i 9 Alessandro Micheletto vi prendete in giro vi sfidate per questo c'è una gara in atto molto onesto devo dire che no in senso a me è più importante che sicuramente anche a Ale che vinciamo che prendiamo i tre punti e poi è solo un bonus quel prezzo di MVP altra domanda all'inizio ti abbiamo visto un po' incerto ora sembri perfettamente integrato questi ragazzi simpatici ti hanno plasmato? ascolta io sono l'elemento nuovo nella squadra quindi direi che forse mi sono plasmato io sei tu che hai plasmato loro ciao sono Manu da Bergamo niente meno ci seguono anche lì Camil da inizio stagione è migliorato ancora di più e lo vedo molto più scattante in difesa hai sempre giocato come opposto l'abbiamo detto ti vediamo sempre molto concentrato e serio c'è un compagno che più di altri riesce a farti ridere allora dell'opposto abbiamo detto dimmi del compagno invece chi ti fa ridere? sicuramente il nostro Gabriele Laurenzano è il numero numero uno ragazze voi avete un'altra curiosità? noi volevamo sapere se hai sentito il peso come è stato diciamo ricoprire il ruolo di un giocatore come Kazzischi che per Trento diciamo è stato un colosso importante per la storia della pallavolo credo che il peso più grande è di giocare nel tricolore in una squadra che ha vinto il scudetto e di provare a rifarlo perché d'altra parte sì come hai detto Kazzischi è una leggenda sicuramente nel mondo di pallavolo ma io non sono Kazzischi non lo proverò a essere io ho un gioco diverso e provo a fare a fare il meglio che posso dal mio punto di vista e aspettiamo un giorno di ritirare la maglia numero 11 senti a proposito di hai detto nazionale Italia devo farti anche questa domanda com'è lì la situazione puoi giocare sai quando da cosa dipende dall'ultima partita giocata con Lussemburgo che deve passare un po' di tempo o cos'è che per ora ti blocca sì è un po' complicato alla fine la federazione internazionale se non mi sbaglio che decide esattamente quanto potrei giocare ci sono delle regole che normalmente due devi aspettare più o meno due anni però per il momento non sono eligibili per questo anno e non credo che cambierà per il momento ti dispiace? sì certo che sì un'ultima domanda poi vediamo le interviste dell'ultima partita ciao Camille ti fa piacere l'interessamento di De Giorgi beh mi hanno anticipata per un posto in nazionale se sì pensi che la burocrazia ti permette di arrivarci questa ringraziamo chi ce l'ha fatta gli hai già risposto in anticipo andiamo alla prossima hai già conquistato i tifosi come ti trovi a Trento e poi mi augurano buon lavoro ringrazio come ti trovi a Trento? benissimo veramente come ho detto già prima la società è una di migliori al freddo sei abituato sì ma onestamente non è così freddo alla fine la città la regione la città bellissima a me piace un sacco e poi i tifosi che danno sempre una grande mano a un bel pubblico Trento vediamo le interviste dell'ultima partita e poi facciamo le ultime due domande a Camille e lo lasciamo andare per questa sera rispetto all'ultima partita eravamo molto più determinati molto più aggressivi soprattutto con la nostra battuta perché dicevamo dall'inizio che sicuramente è fondamentale del nostro gioco principale Bologna sicuramente era una giornata no come abbiamo detto dopo la partita scofite non esistono esistono solo lezioni credo che abbiamo imparato una bella lezione un torneo una giornata importante che servirà sicuramente da qua fino a fine del campionato perché sicuramente prima di Coppa Italia e adesso dopo Coppa Italia siamo sulla strada giusta ripeto era una giornata no mi dispiace veramente però ripeto era molto importante per combattere per i prossimi due obiettivi ultimi obiettivi che sono sicuramente più importanti che la Champions League e il campionato ha fatto lo scudetto abbiamo visto il video della partita di sabato scorso la semifinale contro Monza abbiamo studiato bene la partita poi diciamo che noi avevamo un nodo in gola per la partita della settimana scorsa quindi volevamo rifarci siamo venuti qua con sangue gli occhi tre punti importanti per guardare questa classifica con maggiore serenità sì sì assolutamente siamo primi in classifica siamo felici così ce lo godiamo da domani si inizia a pensare alla partita successiva tante cose sono andate bene stasera io sono particolarmente contento per i ragazzi perché tornati a casa dalla partita di Coppa Italia si è percepito davvero una grande delusione e come sempre hanno fatto nei momenti difficili questi ragazzi si sono ritrovati e si sono confrontati come questo gruppo sa fare veramente in maniera quasi perfetta e stasera hanno messo in campo tutto quello che hanno e tutto quello che sono e cioè grande compattezza un'ottima pallavolo credo in tutti i fondamentali e soprattutto quella quella cattiveria sportiva che che ci voleva secondo me per ripartire in un cammino che ci ha dato grande soddisfazione e che ci ha visto inciampare nella partita di sabato ora credo che facendo tesoro di quell'esperienza e di questa partita di oggi dobbiamo davvero guardare avanti con grande lucidità e con grande confidenza su quelli che sono i nostri mezzi e i nostri margini di miglioramento c'era un'altra domanda da casa dice a vedere il tabellino sembra che la partita di Coppa Italia non abbia lasciato scorie insomma poi hai già risposto siete entrati con una mentalità diversa forse sì beh come abbiamo già detto si deve guardare avanti e sappiamo che c'è ancora tanto avanti a noi è lunga quindi è lunga e quello ci dobbiamo concentrare su quello adesso ti faccio un'ultima domanda su Soli che non ti ho chiesto non ti chiedo come ti trovi perché tanto mi direi benissimo e invece che allenatore è lui rispetto agli altri che hai avuto direi che la la sua personalità e come come si comporta si aggiunge aggiunge molto bene con la squadra che abbiamo con i giovani giovani ragazzi è un bel vanno molto bene insieme diciamo il suo carattere e la nostra squadra vi state divertendo mi sembra quest'anno quando vinciamo sicuramente va bene senti ti auguro veramente di continuare sempre meglio anche di migliorare fare anche quella scalino in più ti ringrazio davvero di essere stato qui sempre gentile e carino e niente in bocca al lupo per il tuo futuro noi ti salutiamo se vuoi salutare i tuoi tifosi quella è la telecamera grazie a tutto ci vediamo al palazzetto grazie Camille noi ci fermiamo per qualche minuto ritorniamo subito con Francesca Micheletto se volete mandare anche a lei le domande sul nostro touch su whatsapp il numero è 339 466 0076 a pochissimi a tra pochissimi eccoci tornati studio ci ha raggiunti Francesca Micheletto benvenuta Francesca grazie buonasera giocatrice naturalmente per i pochi che non lo sapessero dell'ITAS Trentino femminile parleremo anche di questa squadra intanto una curiosità che si diceva prima che iniziasse la partita le ragazze del torre hanno battuto tua sorella col Noigris magari andiamo a vedere qualche immagine dell'ultima partita cosa ti ha detto lei non sarà contenta perché sicuramente ci starà guardando però sì era una partita che sentivano tanto e quindi ovviamente era una finale perciò lei è dispiaciuto tanto però è lo sport poi 3 a 2 insomma dai hanno combattuto io mi ricordo che ero in viaggio quindi ne ho vista una parte però appunto non sono riuscita a vederla tutta quando perde arrivi in finale si perde comunque alla fine cambia poco un po' il risultato dispiace dai un punto però come le hai viste loro a proposito già che stavolta è l'ospite che vede la squadra al tribune non viceversa io ovviamente facevo il tipo a livello solo personale perché anche un'altra ragazza che giocava con noi l'anno scorso era nell'altra squadra però è stato un bello spettacolo insomma è bello che le partite siano così combattute e soprattutto per loro è anche bello far vedere la pallavolo trentina che è molto seguita qui il torre poi è una società storica che ha vinto la coppa Trentino Alto Adige non mi ricordo se l'avevo detto all'inizio comincio ad avere un'età e c'è anche Francesca Cagol che si è vinta la MVP quindi faccio parlare te adesso che sei obbligata a dire qualcosa parliamo insomma di questa coppa ci puntavate ci credevate o è stata una sorpresa? diciamo che è stata un po' la sorpresa ma abbiamo cercato di di lavorarci fin dall'inizio la settimana prima della coppa ci siamo dedicate diciamo a questa partita preparandola sia a livello fisico diciamo che a livello mentale ci credevamo volevamo questa vittoria anche perché la squadra e la società erano da alcuni anni che provavano a raggiungere questo traguardo e finalmente è arrivato passa il microfono sopra che non ha ancora parlato adesso siete seconde mi sembra dietro al Bolzano SSP Bolzen e quanti punti ci sono di distacco? ci sono due punti prossima settimana abbiamo lo scontro diretto contro di loro e capiremo diciamo dove e quando così magari vengono a vedervi a Mattarello alle 20 e 30 sabato sabato questo esatto e come la vedi come stanno loro e come state voi? allora la stiamo preparando da un po' è comunque la partita per capire comunque la posizione in classifica e dato la la finale comunque ci aspettiamo una grande partita e anche da parte loro dato la finale comunque bocca al lupo grazie torniamo scusa parliamo parliamo di voi adesso andiamo subito a vedere il servizio sull'ultima partita in trasferta davanti a un palazzetto gremito da 3000 persone l'Itas Trentino ha fatto il possibile per resistere alla forza delle padrone di casa di Scandicci ma dopo un buon primo set ha alzato bandiera bianca tornando a casa ancora una volta senza punti dalla Toscana che non sarebbe stata una trasferta facile si sapeva la Savino del Bene era chiamata al riscatto dopo lo scivolone di Conegliano che le era costato il terzo posto in classifica scavalcata da Novara che l'ha mantenuto anche dopo questa sesta giornata di ritorno grazie alla vittoria su Cuneo penultima Mazzanti si è affidato inizialmente a Guiducci in regia De Hogo opposta a Costa e Angelina in posto 4 Marco Nato io li voto al centro e Mistretta libero portando in panchina anche il nuovo acquisto l'opposta Iris Scholten 23enne olandese arrivata al termine del campionato cinese per prendere il posto di Valentina Zago l'inizio è da dimenticare 5 a 1 per le Fiorentine grazie a un velenoso turno al servizio di Airbots due spunti di Angelina attacco e muro riportano l'ITAS sul meno 2 5 a 3 ma per le giallo-blu non è semplice trovare Varchi tra muro e difesa Toscani col cambio palla non sempre efficace a dovere 12 a 8 Mazzanti getta nella mischia l'esperienza dell'ex di turno la russa Sherban e poco dopo in regia anche la freschezza della classe 2000 la Stocco operata al menisco a metà dicembre e il nuovo acquisto Scholten subito a segno per il 13 a 9 Trento cerca di restare in partita ma Antropo va in attacco firma il 15 a 10 entra anche Micheletto a puntellare la seconda linea ma un 1 o 2 di Alberti fa scappare le padrone di casa sul 22 a 15 e la fast di Washington chiude il 7 25 a 18 nel secondo Trento fatica di più ancora Antropo va a lanciare a lungo 5 a 3 Mazzanti richiama Costa e rimette Micheletto ma Airbots in battuta non perdona e con un turno micidiale condito da due ace porta le sue sull'8 a 3 i time out di Mazzanti e gli ingressi di Stocco e Scholten non cambiano l'inerzia Scandici continua a spingere e vola via sul 22 a 8 quando il set sembra chiuso però Trento prova al colpo di coda e recupera 5 punti ma poi si spegne e si arrende per 25 a 13 2 a 0 nel terzo set le Trentine reggono fino al 9 a 8 ma Scandici è troppo forte Mazzanti prova tutte le carte del suo mazzo pensando probabilmente anche al futuro e inserisce anche il libero per l'Angeli ma il risultato non cambia 25 a 17 e 3 a 0 per la Savino del Bene poche novità in classifica Alitas Trentino Volley resta Fanalino di coda con la zona salvezza distante 11 punti dopo la vittoria di Casal Maggiore sul Bisonte Firenze sono 7 le giornate da giocare nella prossima sono riposte gran parte delle speranze le ragazze di Mazzanti saranno a Cuneo la formazione più vicina con 13 punti contro i 4 delle Trentine l'obiettivo non può essere che la seconda vittoria di una stagione fin qui avarissima che dire senti no è stata una stagione complicata tanti infortuni è tuttora una stagione molto complicata è tornata a Stocco questa settimana almeno una nota positiva operata al menisco il 15 dicembre però insomma è dura come dire già non eravate una formazione espertissima in più se la stagione parte in maniera positiva un po' di entusiasmo aiuta così è stata una corsa ad ostacoli sono stati tanti fattori messi insieme e ne abbiamo parlato talmente tanto in generale che comunque siamo in una fase dove il nostro obiettivo è provare a dare il gioco migliore ovviamente con queste formazioni è molto difficile vedendo anche poi le due partite tra andata e ritorno Scandicci è sicuramente quella delle top formazioni che ci ha messo un po' più in difficoltà probabilmente perché la possibilità di studiarle era anche minore avendo tante giocatrici e tante diverse disponibili formazioni mentre con gli altri top team abbiamo sempre capito più o meno chi avremmo avuto di fronte da fronteggiare questa volta c'erano più possibilità quindi anche a livello tattico magari riesci a preparare quel qualcosa in meno che comunque ci permette magari di essere un attimino più competitive abbiamo fatto comunque una partita che contro di loro ci può stare quindi non è questo che va a minare un attimino la nostra situazione è vero però che ci proietta in una settimana molto importante quindi quello sarà importante adesso affrontarla da domani senti con Mazzanti anche a te non chiedo se ti trovi bene perché mi diresti benissimo è cambiato qualcosa che tipo di allenatore hai lo chiedo anche a te sicuramente rispetto a determinati approcci che avevamo prima Mazzanti giustamente come ogni allenatore ha una visione diversa quindi abbiamo cambiato determinate cose di gioco ovviamente magari anche di correlazione tra le parti stiamo ricercando molto di più l'essere squadra magari è anche vero che ha bisogno di tempo hanno bisogno di tempo queste cose sicuramente facciamo vedere magari dei tratti di bel gioco che ancora però non sono abbastanza perché comunque ritorniamo spesso in quelli che sono stati un po' i nostri problemi fin dall'inizio occorre tempo occorre lavoro e quello finché ne abbiamo intanto sicuramente è quello che non si può dire lo stiamo facendo tutti ha fatto tanto turnover tra l'altro in questa partita o anche nelle precedenti cioè sta provando varie opzioni abbastanza in generale lo stiamo provando sia in settimana che durante le partite poi ovviamente la gestione riguarda giustamente l'allenatore decide come approcciarle vediamo qualche domanda anche qui intanto c'è la scheda l'ho presa dalla pagina dell'ITAS ci sono delle curiosità la prima che mi ero segnalata è evidenziata davvero è la prima domanda che ti fanno da casa è una scemenza scusa almeno la mia non quella da casa ho visto che sei della Vergine e ci scrivono addirittura da Bergamo sono Manu da Bergamo no scusami non era questa vabbè una ragazza che è della Vergine anche lei e chiede se anche tu sei pignola precisa come mio figlio tra l'altro saluto Diego che stasera ha detto che mi guardava anche tu sei una sì molto molto rispetto a quello che magari si dice generalmente delle caratteristiche sono io dico ordinata mentalmente perché dici che al di fuori sono molto molto disordinata però io sono precisina ho le mie cose in quello sì hai anche una routine prepartita o sei scaramantica non sono scaramantica eccessivamente però le mie cose mi piace farmele nel mio ordine non riguarda gli altri almeno non metto le persone almeno esatto riguarda solo me quindi me la vedo solo io ma si può dire la tua routine prepartita ascolti la musica metti prima la scarpa destra è molto è molto quelle basilari no le cose semplici la curiosità magari di quest'anno c'è stata una partita che nel pre-gara mettendomi le scarpe ho rotto un laccio e però non ne avevo lì a disposizione quindi era un problema allora ho chiamato mio fratello gli ho detto ma senti Alessandro posso rubarti i lacci delle scarpe quindi sono andata a rubare i suoi per quella partita lì è stato un 3 a 2 totalmente inaspettato di questa stagione che ci ha portato uno dei pochi punti che abbiamo allora gli ho detto guarda Alessandro te ne compro un uomo a te e mi tenito te lo posso ridare bellissimo che rapporto avete voi tu e francese scusami Alessandro allora come famiglia soprattutto adesso che ci siamo ritrovati qua già di base siamo molto molto uniti non molto di sport nel senso che non ne parliamo a casa come invece tutti penserebbero sempre palla a volo così invece quando siamo tra di noi in quello niente quindi non c'è molti si immaginano che parliamo che ci confrontiamo invece zero su quello proprio ognuno giustamente ha la sua carriera fa le sue cose e quando siamo insieme c'è tutto l'altro siete in quattro tutti e quattro giocate anche Andrea Andrea è un calciatore che tra l'altro fresco fresco anche lui di uscita fuori casa nel senso che anche lui che è 2008 è andato per il calcio fuori casa quindi ormai la mamma è a casa da sola si è liberata un po' di tutti come la capisco dove è andata Andrea curiosità? a Bergamo all'Atalanta accidenti cavolo tutti scarsi in casa da casa ci chiedono complimenti al Torre per la bella vittoria dicono a voi è sempre un piacere seguirvi e poi chiedono a te Francesca che emozione è giocare per la squadra della città in cui sei cresciuta? guarda già avevamo parlato molto dell'anno scorso io penso che la stagione dell'anno scorso sia stata una cosa veramente emozionante riuscire a portare la uno qui in una società che la femminile comunque non l'aveva mai fatta quindi quello che per me io mi sono sempre sentita parte della famiglia Trentino Volley perché mio papà è dentro questa società da quando sono piccola anche come giocatore cioè stato però non l'ho mai vista come posso giocare anch'io ma perché non avrei mai pensato che si ritrovassero con una parte femminile quindi anche quando iniziavano i rumors di questo avvenimento non ci credevo troppo perché ho detto io ci faccio parte ma non come giocatrice perché non c'è la femminile invece poi questo si è avverato e quindi riuscire a portare qua la uno come la maschile è stato il sogno più grande e dopo due settimane la maschile ha vinto lo scudetto infatti ho pensato un mese felice come quello non lo riviverò mai ed è il motivo per cui mi dispiace tanto questa stagione qui con questa società di cui mi sento molto parte e mi dispiace veramente che stia andando così però è lo sport è un po' la legge dello sport dai che belle parole brava avete una domanda visto che una domanda come e in che modo riuscite trovare la motivazione e la forza di affrontare le partite appunto rispetto al campionato come avete detto prima è un po' complicato ecco è molto attuale come domanda perché alla fine ogni settimana è sempre un po' più difficile entrare in palestra ognuna un po' ha le proprie strategie io penso per esempio per me comunque il fatto di essere in questa squadra di essere in questa società e di credere comunque continuare a credere che i margini siano tanti e che non è questa stagione a definirci noi come giocatrici in generale ma anche del poter stare o non stare in questa categoria è la motivazione in cui ogni settimana ti fate andare in palestra a lavorare a lavorare di più perché prima o poi le cose arrivano non sarà il destino che arrivino prima o poi arriveranno mi dispiace che non arrivino in caso quest'anno però sono convinta che arriveranno perché ci credo e perché faccio lo sport per questo motivo insomma comunque ci abbiamo tutte investito tanto nello sport se siamo qua a giocarci questi campionati e quindi sono convinta che arriveranno scrivono da casa grazie Sara Sara che ci sta guardando quindi la saluto anch'io ti salutano da casa e danno il benvenuto a me da un altro telespettatore della Vergine quindi stasera sono tanti guardo la tua carriera sei nata sei cresciuta nell'Argentario 2013-14 14-15 poi il Delta in A2 poi Montecchio Torino Busto Arsizio Macerata e poi Litas quale ti è rimasta più nel cuore di queste squadre? ogni anno è stato intenso perché ho portato via tante cose sicuramente un anno a cui sono molto legata perché è stato un anno di consapevolezza ma non portato a termine è stato quello a Torino perché il Covid ha interrotto una stagione molto spensierata molto bella con un bel gruppo quindi sicuramente era una di quelle stagioni che avrei voluto veramente finire poi è inevitabile anche non ricordare quella di Macerata che è stata la prima promozione in A1 con una società storica lì perché comunque la pallavolo lì era storica tanto quanto l'è qui a Trento e per assurdo quell'anno lì noi Macerata femminile avevamo vinto la 2 e la maschile aveva vinto lo scudetto buttando fuori Trento in semifinale quindi c'era anche il mio papà che ha detto guarda te se mi devo ritrovare a fare il TV in casa il nemico in casa dai che bello vediamo dobbiamo far vedere le ultime schede così commentiamo risultati classifica e prossimo turno anche per la 1 femminile cominciamo dai risultati eccoli qua Casal Maggiore Firenze 3 a 0 anche Vallefoglia Busto Arsizio Bergamo Roma 1 a 3 Pinerolo Chieri 3 a 1 Novara Cuneo 3 a 1 Scandicita se lo sappiamo Conegliano Milano 3 a 0 cosa ti stupisce? c'è qualche risultato torniamo indietro che ti stupisce? facciamogli rivedere povera Francesca beh sicuramente Pinerolo comunque ha fatto siccome era una partita del derby ha fatto una gran gara per battere Chieri che sappiamo essere molto competitiva bene o male gli altri risultati erano un po' più previsti via via veloci che manca un minuto classifica eccola qua Conegliano 54 Milano 48 andiamo verso la fine così parliamo già del prossimo turno allora le ultime due retrocedono direttamente esatto Casal Maggiore ha vinto per restare ancora attaccati risulta fondamentale la prossima come comunque sono fondamentali tutte le partite per noi già da un po' però andate andate a Cuneo andiamo a Cuneo ed è la partita che all'andata abbiamo vinto anzi potevamo anche portare magari l'intero bottino a casa quindi sicuramente non c'è ci sarà l'impressione del risultato ma relativamente perché comunque sì non è da dentro o fuori però insomma sarebbe bello ci può essere sicuramente per una volta la consapevolezza se magari contro le altre squadre non avendo mai vinto dici magari non sono in grado con Cuneo sappiamo che siamo in grado quindi si può fare un enorme in bocca al lupo grazie tantissimo di essere stata qui anche a te stasera veramente due ospiti tanto carini Bruno non ho chiesto niente a te Bruno Penner dirigente della società dimmi due parole su queste ragazze che stanno facendo una grande stagione perché? niente stanno facendo benissimo sono contento proprio di far parte del gruppo perché veramente dà soddisfazione essere seguirle grazie ricordiamo la partita quando è il big match? sabato alle 8 e mezza a Mattarello a Mattarello in bocca al lupo anche a voi grazie io ringrazio il Torre Franca per essere stato qui ringrazio di nuovo Francesca Michieletto se vuoi salutare anche tu il tuo pubblico diamo il tempo alla telecamera di arrivare ecco cosa promettiamo? ah beh sì in questo momento non posso fare grandi promesse obiettivamente sicuramente l'impegno ma lo sanno perché comunque i tifosi vengono in palestra vengono alle partite e loro il supporto non l'hanno fatto mai mancare ma perché sanno che comunque siamo una squadra di ragazze che si impegna che ci prova e che ci credono anche loro perché qualcosa iniziamo a fare lo facciamo vedere quindi insomma di continuare la nostra strada e i lacci delle scarpe non ti cambi e grazie a voi soprattutto che ci avete seguito anche questa sera e che non mi avete neanche massacrata per la prima puntata quindi grazie ci vediamo lunedì prossimo arrivederci